Buongiorno. Dottor Faccio, una cosa sola, abbiamo visto il registro delle imprese e non spunta ancora alcuna comunicazione, perché? Ce lo può spiegare? Per i tifosi, insomma, tante domande e poche risposte. Una precisazione, il passaggio di proprietà non viene più accettato all'inizio delle imprese. Viene comunicata solo in sede di presentatore del bilancio. Le cariche sociali sono fatte già passate. Quando ci sarà la conferenza? A breve. Incontrerete prima il sindaco? Grazie.